Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia dove curiamo ogni anno più di 4.000 pazienti che hanno perduto completamente i denti per incidenti stradali Piorrea, quindi parodontite in stadio avanzato, oppure errori che hanno commesso le altre KIP In questo video parliamo oggi di qualità Che qualità? Cosa vuol dire qualità? Qualità vuol dire tutto e nulla Qualità è un derivato della passione che tu ci metti nel lavoro e in quello che fai Noi realizziamo ogni giorno che cosa? Arcate dentali, potremmo dire d'autore Lui per esempio è uno degli autori, Tagheesh Dumitru, che si occupa proprio nel nostro laboratorio di questo Di dare poi al paziente un qualcosa di altamente qualitativo E che non sia semplicemente una produzione standardizzata di denti standardizzati Da montare alla bocca del paziente, salutarli e poi arrivederci e grazie Qualità significa quindi passione in quello che ci metti, in quello che fai A me chiedono, dicono sempre, ma tu lavori Palmas in Moldavia Fai i prezzi bassi e quindi metti dei lavori Onestamente se il prezzo è basso le persone pensano che la qualità non è buona La verità è un'altra, che io i prezzi li faccio bassi in Moldavia Perché semplicemente vivo in Moldavia e qua tutto costa meno In realtà noi non siamo più economici, anzi direi che noi siamo costosi Sicuramente trovi qualcuno che è più economico di noi in Moldavia E sicuramente troverai sempre qualcuno che fa i prezzi più al ribasso Diciamo che rispetto all'Italia noi possiamo offrire a parità di costo Dei prezzi che sono inferiori, perché abbiamo tutto il costo del lavoro che è inferiore Questo per esempio che ti faccio vedere qua è un lavoro, un'arcata premium Che sicuramente chi si intende di odontoiatria non potrà dire che è un lavoro low cost Ok, non confondiamo il turismo dentale, i pazienti che vanno a curarsi all'estero Con l'odontoiatria low cost, sono due cose completamente diverse Chi fa low cost nel paese costoso abbassa i prezzi togliendo qualità Chi invece ha i prezzi bassi ma vive all'estero ha semplicemente i prezzi bassi Perché il costo della vita è inferiore all'estero, ma non sta togliendo qualità E questo è il motivo per cui molti pazienti che devono fare lavori così complessi Alla fine vanno sempre più spesso a scegliere noi E lavoriamo tanto Ok, questo è il motivo per cui ci siamo dovuti poi specializzare E andare in profondità in maniera verticale e offrire qualità Perché lavoravamo con internet, lavoriamo ancora con internet Vedi arcate complete su impianti dentali e quando tu sei su internet il mondo è tutto più piatto Significa che sei in competizione con i dentisti ungheresi, con i dentisti irlandesi, con i dentisti italiani In competizione con i dentisti croati, con i dentisti bulgari, con i dentisti rumeni Più c'è questo dentista sardo in Moldavia che si occupa anche lui di questa roba qua E noi avevamo i prezzi più bassi a imbutto i pazienti che devono fare lavori molto costosi Questi sono lavori che in Europa costerebbero 40, 50 Con questa qualità che ci hanno per esempio fatto i complimenti online Complimenti anzi a Dumitru che si è occupato poi dell'assemblaggio e setup di tutto questo lavoro Costerebbero anche 60 mila euro questi lavori Se tu lo puoi fare in Moldavia con 8 mila euro questo stesso lavoro O anche 10 mila euro ma anche se fossero 15 mila euro, 13 mila euro Comunque non stai spendendo 60 mila euro Fai attenzione perché ci sono alcune nazioni dove non fanno le cose come dovrebbero essere fatte Questo per esempio è un lavoro dove nella barra interna è stato posizionato oro Questi invece sono dei lavori più sofisticati Dove viene per esempio posizionato titanio, gengiva in composito, denti in zirconio Che sono tra l'altro poi caratterizzati e sono resi uguali, identici a quelli del paziente Con un lavoro di texture, di superficie iperrealistica Un lavoro così probabilmente nel tuo paese viene venduto dall'odonto tecnico al dentista Solo questo 5-6 mila euro Poi dopo il dentista moltiplica per 4 Ti ho detto quanto costa più o meno dal dentista un lavoro di questa qualità Senza neppure gli impianti dentali E poi ci devi mettere la chirurgia, impianti dentali Un lavoro come questo è un lavoro che viene a costare veramente tanto Qui da noi un lavoro come questo, per esempio solo l'arcata, sono sui 3.500 euro Per darti un'idea Però i materiali non cambiano, i materiali sono gli stessi Perché qua costiamo di meno? Costiamo di meno perché siamo in Moldavia Il costo della manodopera è inferiore Il costo della produzione è inferiore E quindi abbiamo anche tutti i costi cumulati che sono inferiori Lavorando con internet, questo si vede Su internet abbiamo tantissima richiesta E siamo in competizione con internet e con gli altri Proprio perché c'è una certa trasparenza online Che ti obbliga a essere qualitativamente superiore rispetto alla media E alla fine quello che succede è che abbiamo avuto molta richiesta di tantissimi pazienti E se noi volevamo evitare di avere recensioni negative online Dovevamo assolutamente fare dei lavori per realistici Guarda qua per esempio la texture di superficie di questi denti Il match che c'è tra la gengiva artificiale del paziente e quella naturale del paziente I denti laterali che sono più piccoli sempre dei denti centrali Vedi qua per esempio Il laterale è un millimetro più corto dell'incisivo centrale e del canino E lo stesso da sotto è più corto di un centimetro Se tu non vai a rispettare questi parametri estetici Che vengono definiti col computer Le traslucenze L'arancione che vedi qua Oppure quest'alone scuro incisale Oppure l'orange L'arancio che c'è qua Verso la parabola incisale Il rosa pallido che c'è in questa zona della gengiva Con il rosso che qua simula le scanalature Che vanno poi verso la papilla Questo è iperrealismo E fai attenzione che non tutte le cliniche all'estero Fanno questo livello di iperrealismo Da noi i pazienti le vedono queste foto Abbiamo fotografi in clinica Che servono proprio qua A far vedere la qualità e la passione Che noi mettiamo ogni giorno E quello che succede è che ti arriva ancora più richiesta A quel punto hai di fronte due strade O scegli la strada dell'industria E iniziare a fare quantità Oppure andare più in profondità E fare sempre più qualità E noi nel tempo ci siamo specializzati Sempre di più nella qualità Quindi significa che Se noi vogliamo avere Una produzione che continua Nel tempo a offrire questa qualità Dobbiamo mettere dei limiti A quella che è la produzione Un pochino come fa la Rolex Ok la Rolex non è che aumenta Il numero di orologi Che ogni anno produce Gli orologi sono sempre quelli che si producono Semplicemente chi è un intenditore Capisce le protesi d'autore Ha trovato l'orologio che fa per sé Questo è il livello di iperrealismo Che si può ottenere oggi Con questi tipi di lavorazioni E tutto dipende dalla filosofia Che c'è alla base Cioè quello che produci Dipende dalla tua filosofia Le tue credenze In cosa tu credi Se tu credi che nel futuro Non c'è più spazio Per le produzioni standardizzate Per le produzioni di massa Che pensi anzi Che queste tipologie di lavorazioni Si estingueranno Allora vai a impostare Come abbiamo fatto noi Una lavorazione di qualità Per quei pazienti che hanno necessità Di risolvere casi molto complessi Ripeto Incidenti stradali Piorrea in stadio avanzato Oppure pazienti che hanno Già fatto delle chirurgie Ma che sono andate male Là dove si fermano gli altri Noi iniziamo Chirurgie terziarie Zigomatici Ptericoidei Chirurgia massillo-facciale Di una certa importanza Allora quelli sono pazienti Che arrivano a imbuto In Moldavia E sono pazienti Che si informano per un anno Due anni Ci seguono Non vengono subito Piuttosto risparmiano i soldi Perché hanno trovato Dove possono acquistare Il Rolex A un prezzo democratico Perché qui da noi Sicuramente i prezzi Non sono come in Europa Questo vedi per esempio Un caso di Paziente che ha messo Impianti zigomatici Lo avevano rovinato Un caso complicato Già di per sé Perché aveva poco osso L'hanno fatto diventare Un caso estremo Hanno messo degli impianti dentali Standard Dove non si dovevano Già mettere impianti dentali Standard Ma impianti non convenzionali Noi Il paziente è arrivato In questo stadio Abbiamo fatto La TAC 3D Stampato la TAC 3D E pianificato un nuovo intervento Ma ci dovevamo Piazzare qua Degli impianti non convenzionati Quelli zigomatici E su questi La grande difficoltà Sarebbe stata proprio La protesi Andare a creare Una protesi Che simulasse L'osso Che era stato perduto Negli anni A causa poi Delle chirurgie sbagliate Che erano state fatte Guarda qua Il livello di texture Di superficie Che è stato fatto Per esempio Da Vika La nostra specialista In bioemulazione Dove con Lavoro manuale È andato poi a simulare Quelle che sono Le caratteristiche Di rifrazione Della luce Dumitro invece Ha simulato Quelle che sono Le caratteristiche Di simulazione Della gengiva Per andare poi A mettere in bocca Un'arcata Così Che io penso 60.000 euro Per un lavoro così Non ti bastano in Europa Io ti faccio un saluto Qua dall'istituto Sviluppo e ricerca Bocca bionica In Moldavia Se anche tu Sei uno Di queste categorie Di pazienti Che deve fare Qualcosa di complesso Puoi trovare I nostri riferimenti Comunque Se sei intenzionato A curare all'estero Sotto a questo video Un saluto